La Regione Piemonte difende i nuclei familiari e di cittadini meno abbienti. Questa attenzione alla coesione sociale passa per provvedimenti concreti. Eliminazione per tutti dei ticket sui farmaci generici. Annullamento dei ticket sui farmaci essenziali di fascia A per i nuclei familiari sotto i 36.000 euro. L'addizionale IRPEF di competenza regionale è stata ridotta per i nuclei familiari con reddito fino a 20.000 euro e soppressa per quelli con reddito fino a 15.000 euro, perché tutti possano guardare avanti.